E bentrovati di nuovo! Buongiorno a tutti! Eccoci qua! Allora, carissimi, per una nuova puntata andiamo avanti proprio da dove eravamo arrivati. E allora cominciamo subito, che questa è una puntata ricca e come proprio un'avventura, ci stiamo addentrando sempre di più i misteri e le bellezze della nostra fede. Allora, sempre cominciamo con la preghiera, ce lo rammentiamo, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro, dice Gesù. E allora ci conforta, ci solleva, ci sostiene, stiamo attraversando un tempo ancora, insomma, difficile, tante cose ci è chiesto di evitare di farle, siamo comunque sempre a distanza. Coraggio! Eh, coraggio, allora è avanti! Una bella preghiera, eh? Va bene? Pronti? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco allora, uniti, eh? Uniti nel Signore Gesù, siamo i Suoi discepoli, contenti di esserlo gioiosi. Allora proseguiamo. Dunque vi rammentate, tenendo sempre così, diciamo, uno sguardo alla professione della nostra fede, la bellezza, no? Ce la siamo scritta, la 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 la, ci rammentiamo di pregarla, no? Tutte le volte la domenica ammessa, eccetera. Noi abbiamo la forma più sintetica, che può essere anche oggetto della nostra preghiera, anche quotidiana, volendo, eh? Anche in famiglia, che meraviglia. Tutte le volte che torniamo a professare la nostra fede, a dirlo, questo nostro credo, beh, è un balsamo, eh? Eh, fratelli, sorelle, davvero, carissimi amici, ci fa, ci fa un gran bene. Allora, e poi proseguendo abbiamo detto, abbiamo volto lo sguardo sul Dio, sull'onnipotente, misericordioso Dio che è creatore. Abbiamo detto creatore di tutto, abbiamo nel cuore, nella mente, nelle orecchie, tutte le volte ci possiamo tornare ad attingere come una sorgente sicura l'origine di tutto, il racconto proprio della Genesi, il racconto biblico della creazione, e, ecco, ricordando, no? Vi rammentate quel ritmo bello, particolare, tutte le creature secondo la loro specie. C'è un ordine proprio nella creazione, per arrivare poi al vertice, e Dio creò l'uomo, a immagine di Dio lo creò, per cui, ecco, questo rapporto di Dio con l'uomo, con l'umanità, il vertice, si direbbe il culmine della creazione, all'uomo Dio affida il creato perché lo custodisca e ne abbia cura, è la nostra casa comune, come ci ha insegnato a chiamarla Papa Francesco, che è questo mondo bellissimo che ci è stato donato e di cui siamo responsabili. Allora, ecco, su questo possiamo riflettere su tante cosettine importanti, ci saranno alcune domande che ci guidano. Che cosa distingue l'uomo da tutti gli altri esseri viventi creati da Dio, da tutti gli altri esseri creati da Dio? Dio indubbiamente ama tutto ciò che ha creato, gli animali, le piante, il cielo, le stelle, tutto, ma Dio ha donato agli esseri umani qualcosa di particolare. Allora, come si diceva, Dio ha affidato proprio agli uomini la terra, la nostra casa comune, perché la coltivassero e custodissero. Siamo dunque responsabili. Dio ci ha creato donandoci una libertà che diventa responsabilità. Di soltanto dell'uomo, fra tutti gli esseri viventi, si dice che Dio lo ha creato a sua immagine e somiglianza. E quindi, ecco un punto importante, l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio. Quindi si potrebbe dire, è nella stessa costituzione dell'uomo fare grandi cose, come Dio avere la capacità di amare e di rispondere all'amore incondizionato di Dio. Come Dio e rispondendo all'amore di Dio, l'uomo anch'esso capace di amare, può fare davvero grandi cose. Al pari di Dio, infatti, l'uomo, pensate, un uomo e una donna che si amano, si vogliono bene, generano una vita, una vita nuova. E questo è l'amore più grande di tutti, dare la vita, ma che meraviglia! E in questo il babbo e la mamma, diciamo, sono collaboratori di Dio nella creazione, perché questo è il modo in cui si viene al mondo, siamo nati ciascuno di noi. Per cui, vedete, all'uomo è affidato una missione straordinaria. L'uomo è libero. È libero e egli sa sentire, piangere, ridere, può assumersi le sue responsabilità, può scegliere tra il bene e il male. Ecco, questo è molto importante. Allora, potremmo dire, ci aiuta, ormai questa parola ci siamo abituati, il Magistero della Chiesa, cioè a dire le parole dei Vescovi, in particolare del Papa, che è il Vescovo di Roma, ci aiutano a riflettere su questo. Ci dice il Papa Emerito Benedetto, noi non siamo un prodotto casuale, senza senso. Ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto. Ciascuno di noi è amato. Ciascuno di noi è necessario. Ciascuno di noi è amato, prima di tutto, da Dio. E ciascuno di noi è necessario. Siamo nati per un motivo, perché voluti da sempre da Dio. Quindi, vedete, potremmo chiederci perché dunque sono al mondo. E qui c'è un pensiero molto bello che viene da un Vescovo di due secoli fa, del 1800, che dice queste parole così belle. Sono chiamato ad essere o a fare qualcosa per la quale nessun altro è stato chiamato. Ho un posto nel disegno di Dio e sulla terra di Dio che nessun altro ha. Ho un posto nel disegno di Dio e in questo mondo nel quale il Signore ci ha posto, un posto che nessun altro ha. Pensate bello. Che io sia ricco, povero, disprezzato o onorato dagli uomini, Dio mi conosce e mi chiama per nome. Questo Vescovo che ci regala questa bella riflessione si chiama John Henry Newman. Magari il babbo e la mamma ne hanno sentito parlare. È un santo, un santo Vescovo dell'Inghilterra. Ebbene, allora, c'è un bellissimo disegno che Dio ha su di te, su ciascuno di noi. E questo disegno si va svelando poco a poco, cammin facendo, nella nostra vita. Seguire dunque Gesù è il modo vero per conoscere chi sono e per conoscere quello che Dio ha in serbo per me, quello che Dio vuole da me. Come attuare questo disegno? È attraverso Gesù che si svela il volto del Padre e che noi tutti, facendoci discepoli, conosciamo noi stessi. E conosciamo ciò per cui siamo chiamati. Allora si direbbe Dio dunque ha creato il mondo per amore, Dio ha creato l'uomo affidandogli la responsabilità. E di questo mondo è una missione ulteriore bellissima che nessun altro ha e che è personale proprio per ciascuno di noi. Allora Dio si prende cura di noi e di ciascuno. Certo, in ogni istante Dio si prende cura del mondo perché non ricada nel nulla. Dalle piccole formiche fino alle galassie sconfinate nulla può sussistere senza Dio. Pensate bello, è un pensiero che ci porta lontano a realtà grandissime e pur sempre vere, realtà grandissime e pur sempre vere e concrete e reali. Dio non è come un tecnico, diciamo così, che ha costruito un meccanismo complicatissimo e poi lo ha abbandonato a se stesso e se n'è andato. No, Dio si è fatto uomo, è venuto in questo mondo. Anche oggi Dio non è lontano da noi. Ci vede, ci sente. Ricordiamoci le parole di Gesù. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Dio si prende personalmente cura di ciascuno di noi, dell'umanità intera. Non siamo lasciati soli, non siamo smarriti. Non è un Dio lontano il Dio al quale ci rivolgiamo. C'è un piccolo passo, un brano del profeta Isaia che dice Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato. È un'immagine poetica, bellissima, anche molto concreta. Vedete, siamo abituati anche noi a farci dei tatuaggi, di cose memorabili che vogliamo siano sempre sott'occhio. Perché mai uno si tatua, si fa un simbolo, una lettera, un'iniziale? Perché quella realtà alla quale il tatuaggio rimanda è importantissima per la sua vita. Lui non la dimenticherà mai. Ebbene, Dio usa, come dire, la stessa immagine poetica, è bellissima, è molto reale. Dio ha disegnato il nostro nome sul palmo della sua mano perché ha sempre dinnanzi. È il nostro volto, la nostra storia. Dio guida dunque la nostra vita. Sì, Dio ci mostra il cammino e ci aiuta a percorrerlo. Siamo liberi, però. Dio non ci guida come un robottino telecomandato, come se si fosse dei burattini con i fili. No, ecco, questo è importante. Dio si fa presente nella nostra vita, ha donato la libertà perché siamo noi stessi a decidere, possiamo anche decidere di voltargli le spalle. Ecco il peccato. Dio parla però attraverso la nostra coscienza, si mostra attraverso le persone che ci aiutano, che ci vogliono bene, ma anche nelle situazioni della vita che ci accadono, anche in quelle più difficili, anche in quelle meno belle. Dio non si allontana mai, è presente, non ci abbandona mai. Quindi anche attraverso le difficoltà, i problemi, noi sperimentiamo la sua presenza e anche quelli diventano un aiuto per progredire, ripeto, secondo un disegno misterioso e bellissimo che Dio ha su ciascuno di noi e che deve compiersi in questa vita e per la vita eterna. Eh, Dio ci vuole felici, ci vuole accanto a sé. Allora potremmo aggiungere, dinanzi a questa panoramica, bella, no? Dio crea l'uomo, Dio lo crea per amore, Dio si prende cura di ciascuno di noi, Dio ha pensato da sempre a ciascuno di noi, chiamandoci all'esistenza, affidandoci un progetto bellissimo. Allora ci vorrebbe da dire perché il mondo che vediamo intorno non è poi più così buono come Dio lo ha creato. In effetti, questo ci introduce poi a cose che riprenderemo poi più avanti, ma è una realtà con la quale ci confrontiamo ogni giorno. Il mondo è in un simile disordine che è sotto gli occhi di tutti, vedete, perché la violenza, perché il dolore, il male, come mai? Perché noi uomini purtroppo compiamo, eh, compiamo il male. Questo è quello che chiamiamo il peccato, il voltare le spalle a Dio, il compiere il male. Non possiamo semplicemente tirarcene fuori e dire a partire da oggi saremo tutti più buoni, saremo soltanto buoni. Questo non è propriamente possibile. Perché? Perché anche noi siamo, ciascuno di noi è contagiato in qualche modo, vedete, dal peccato. Ormai la parola contagio è diventata, ah, ahimè, anche troppo conosciuta per via di questa pandemia. Però ecco, che tutto quello che stiamo vivendo possa, sicuramente facendoci attenti alla salute, eccetera, però possa davvero aprirci gli occhi a un male ancora più profondo che abita nell'uomo ed è pericolosissimo. Ed è proprio il peccato. Laddove, cedendo all'orgoglio, all'egoismo, posso diventare cattivo, cattivo verso gli altri, voltare le spalle a Dio, disinteressarli, eh, della missione che il Signore mi affida e quindi anche maltrattare il creato e i fratelli e le sorelle che ho incontro a me, diciamo intorno a me, nel nostro cammino. Ebbene, sì, quel peccato originale da Adamo e Deva viene chiamato il peccato originale. Questa espressione, ripeto, accenniamola sola, ci dovremo tornare, questa parola non dice il peccato individuale o la colpa individuale che uno poi dopo può compiere, ma è uno stato di disordine, diremmo così, che ciascuno di noi eredita semplicemente venendo al mondo. È la condizione dell'umanità ferita nella quale nasciamo ancora prima di decidere liberamente di commettere un peccato. E questa è un po' una realtà un po' complessa, eccetera, però accogliamola, lo vediamo, è fin troppo evidente, lo sentiamo anche dentro di noi, c'è il desiderio di essere buoni, di fare bene, ma certe volte non ci riesce, certe volte siamo nervosi, scattosi, ci arrabbiamo, come mai, che cosa abita dentro di noi, questo va chiarito ed è importante, è importante perché si chiama peccato originale, il Signore Gesù ha spezzato le catene di questo peccato originale, questo è importante e noi tutti con il nostro battesimo siamo immersi in questa realtà si chiama di redenzione, di salvezza, di vita eterna, la salvezza la compie il Signore Gesù andando sulla croce, è per tutti noi, questa è una realtà sicuramente bellissima, importantissima e che ci fa scoprire che tutti noi, il mondo intero, ha bisogno di ritornare a Dio sempre, chiamandolo Padre, tornando a chiamarlo Padre, perché tutti noi ci siamo allontanati, è in conseguenza di questo peccato originale, del male che in qualche modo abita, ahimè, dentro di noi, però ecco, siamo comunque fatti liberi, nella nostra coscienza, nel profondo dell'animo nostro, parla la voce di Dio che ci chiama e noi possiamo tornare a Lui come un Padre Gesù che ci insegna a chiamare Dio Padre, a ritornare a Dio con fiducia e di fatti, ecco un pochino la conclusione di questa puntata, vedete, un pochino complessa, si dicono tante cose, si parla di un Dio creatore che crea l'uomo, lo crea responsabile, libero, come vertice della creazione, gli affida una missione straordinaria, ha immagine e somiglianza sua, si rivela, è nel suo progetto d'amore e quindi si prende cura dell'uomo, lo libera dal peccato originale attraverso il figlio suo che è il verbo che si fa carne, che si fa uomo, che è il Signore Gesù che ci fa tornare a Dio considerando questo su tutto, Dio è onnipotente, Dio è creatore, Dio è soprattutto Padre. Ecco allora su questa parola lasciamo che quello sguardo che avevamo iniziato a avvolgere a Dio la puntata scorsa, vedete, due intere puntate addirittura per parlare di questo, ci rivolgiamo a Dio, l'Onnipotente, il Creatore, ma soprattutto e questo però ci insegna Gesù a farlo, è Padre, allora chiamiamo Dio Padre perché con il battesimo noi siamo diventati davvero Suoi figli, non è un appellativo così fantasioso, si può chiamare Padre chi ci è realmente Padre, quindi da figli noi chiamiamo Dio Padre, allora chiamare Dio Padre dice una verità molto profonda del nostro essere, non siamo soltanto a questo mondo, non siamo solo vivi, non siamo solo esseri umani bellissimi che si muovono in mezzo a un creato meraviglioso che ci è stato donato, ma siamo prima di tutto figli, figli amati da questo Padre che ci vuole tutti salvi e tutti nella gioia, nella pienezza di una fioritura, ecco, secondo il disegno originario di Dio, tutti noi abbiamo un Padre buono, il miglior Padre del mondo che è il Padre Celeste, allora questa è una verità sempre nuova per la nostra vita, ma c'è bisogno del Signore Gesù che ce l'annuncia, ecco, infatti ci facciamo discepoli del Signore Gesù che la vive in prima persona e ci insegna e ci dà questa praticabilità, si fa Lui via, è per condurci al Padre e su questo sguardo abbiamo detto cominciamo timidamente con timore, tremore e anche tanta gioia, tanto slancio, tanta fiducia e affidamento, avvolgere lo sguardo a Dio, al Creatore, al Padre di tutto, lasciamoci appunto con questa immagine di fiducia, perché dinanzi a un Padre io posso essere in piena perfetta confidenza, perché un Padre vuole solo il bene per i suoi figli. Ecco, allora ci lasciamo con questa piccola storiellina e l'ho trovata bellissima, è scritta qui nel libretto, allora ve la leggo e ce la godiamo e lasciamo che sia per noi proprio ecco il congedarsi anche in questa ulteriore puntata, molto molto bello, sentite un po'. sopra la piazza del mercato un equilibrista camminava sul filo facendo le evoluzioni più incredibili, sospesoli per aria, mamma mia. Chi vuole attraversare con me il vuoto in carriola? Su una carriola che lui spingeva, no, su questo filo. Nessuno osò alzare la mano, figurati. Si presentò solo un ragazzino, salì, veloce come uno scoiattolo per raggiungere l'equilibrista. Si sedette nella carriola e l'equilibrista gli fece attraversare il vuoto che si spalancava sotto di loro facendolo camminare sul filo in equilibrio. Mamma mia. Ma non avevi paura? Gli chiese dopo la gente. No, rispose ridendo il ragazzino. L'equilibrista è mio padre. Bella, eh? Una storia molto, molto graziosa, molto gentile e molto bella. L'equilibrista è mio padre, io mi fido. Allora, a maggior ragione, ci mettiamo proprio nelle mani di Dio. Allora, carissimi, fidiamoci all'angelo custode che ci guida e continua a guidarci nella bellezza, delle scoperte della nostra vita che è guidata da Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me che ti fui affidato dalla Pietà Celeste e così sia. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, grazie a tutti, carissimi, e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.